Salve a tutti, sono il dottor De Mari, farmacista esperto in fitoterapia. Molte persone mangiano carne quotidianamente. È un'abitudine sana, quindi che farà bene alla loro salute, o è un'abitudine che può compromettere la loro salute? Vediamo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quattro anni fa, quindi nel 2015, ha classificato un consumo quotidiano di carni conservate, quindi ad esempio gli affettati, i salumi, come alimenti cancerogeni, cancerogeni, il che significa che sono collegati alle sigarette, possono innescare, possono provocare il tumore, e un consumo quotidiano di carne rossa come un alimento probabilmente cancerogeno. Poi i loro studi sono stati conclusi, quindi le conclusioni dei loro studi, è venuta scrivendo che 100 grammi di carne rossa e 50 grammi di carni conservate, quindi lavorate, questi affettati, possono aumentare del 17-18% l'incidenza del tumore all'intestino. Gli studi sono stati effettuati sul tumore al colon e sul tumore al retto. Tante persone entrano in contatto quotidianamente con la carne, con la carne rossa, carni lavorate, senza neanche magari rendersene conto, e con quantità sicuramente maggiori di questi 100 grammi di carne rossa e 50 grammi, cioè immaginate una porzione molto piccola, 50 grammi di carni lavorate, sotto forma di bistecche, sotto forma di arrosti, mangiamo gli hamburger, mangiamo le polpette, li mettiamo all'interno del sugo, con la pasta, quindi ad esempio il ragù, creiamo delle paste ripiene, i tortellini con all'interno la carne, tutto molto buono, le lasagne, che per essere più saporite, ovviamente devono rigorosamente avere carne, quindi sicuramente troppe persone mangiano carne rossa a pranzo, a merenda, a cena e anche la carne conservata. Considerate che la diamo ai bambini a scuola, nelle menze scolastiche, la diamo alle persone che si trovano in ospedale, quindi nei menu ospedalieri, e quindi alla fine il messaggio che tende, che passa su tutto questo, è che questa carne comunque in qualche maniera fa bene, faccia bene alla salute. Ci sono molti studi, altri studi che hanno collegato l'assunzione di carne rossa ai tumori alla prostata, altri studi che hanno collegato un'assunzione eccessiva di carne rossa da adolescenti, quindi da ragazzi, o predisporti maggiormente al tumore alla mammella in età adulta. E poi per quale motivo le carni lavorate, quindi ad esempio questi affettati, questi salumi, sono più nocivi della carne rossa? Probabilmente tutto questo è dovuto all'utilizzo dei nitriti come conservanti, e quando noi ingeriamo ad esempio un buon salame che è stato conservato con i nitriti, questo crea delle nitrosamine a livello intestinale. E tutto questo può innescare infiammazione, strassossidativo, acilosi sistemica, e poi ovviamente ci può condurre verso il tumore. Tra carni lavorate che non utilizzano i nitriti, ad esempio il prosciutto crudo di Parma, il prosciutto crudo di Parma, si è visto che è collegato alla carne rossa, quindi ha un'incidenza minore di provocare il tumore al colon. Però comunque bisogna fare attenzione a questi alimenti. Io vi ringrazio per l'attenzione, se il video ti è piaciuto metti mi piace, condividilo con i tuoi amici e iscriviti al canale YouTube. Ciao!